Buonasera a tutti quanti cari amici, ho un ritorno, ho un ritorno, perfetto, buonasera a tutti quanti, a tutti gli amici di Radio Science, come amo dire del condominio di Radio Science, eccoci con una nuova puntata di Don Chisciotti e Mulini a Vento. Questa sera, come di consueta la trasmissione dell'amico Alfredo Stori, ci sarà un ospite, un ospite importante che poi Alfredo presenterà. Io faccio solamente la presentazione del network e vi racconterò due fatti che ho letto oggi degli avvenimenti sui giornali di oggi. Giusto vi rubo due minuti. Allora vi ricordo comunque che c'è una chat sul nostro sito e su tutti i siti associati a Radio Science Network dove potete scrivere e fare le domande all'ospite oppure se volete dire qualche cosa, mandarci un messaggio, è sempre ben accetto. Ricordo comunque che tutte le nostre trasmissioni live vanno a reti unificate sul web radio del network che sono Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Isso da Modena, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, Radio Valdichiana dalla Valdichiana e Modena Noi Radio sempre da Modena. In più questa sera andiamo anche sul web tv, quindi siamo presenti sia sul canale youtube che sul nostro canale privato. attenzione al ritorno sul nostro canale del sito radiosaiuz.it. Allora, bando alla ciance, vi ricordo solo alcune cose che ho trovato un articolo molto interessante questa sera, Alfredo, non so se dopo vuoi dire qualche cosa anche tu, riguardo le promesse mancate del governo sugli 80 euro. Insomma poche parole da quello che ho letto nell'articolo che ci sta un certo numero di cittadini italiani, sono ben 341.000 che nel 2015 hanno dovuto rinunciare a questo beneficio perché sono scesi sotto la soglia degli 8.000 euro di reddito. poche parole, più povero sei, meno diritti hai. E quando ci fu la denuncia del fatto quotidiano il ministro Padova, non so se il ministro che cavolo fa al governo quel tizio là, disse cercheremo di alleviare la sicura questione. Quindi questa è una delle due notizie. L'altra che è anche importante perché a livello internazionale, insomma l'esercito di Rakhine è entrato a Mosul, hanno preso la torre della TV, però l'ONU conferma che l'ISIS sta usando 25.000 civili come scudi umani, quindi facciamo un attimo attenzione perché da quelle parti stanno morendo più bambini, anziani e donne che militari, da quello che capisco, dalle notizie che ci danno. Poi c'è una denuncia dei sindaci per il terremoto che dicono che c'è troppa burocrazia e quindi lentezza, insomma serve troppo tempo per la messa in sicurezza, dicono. Un calvario, hanno detto, non finisce mai, una nuova scossa di magnituro 4.8, dicono, ha fatto tremare il centro Italia. Accumuli è stato evacuato, Renzi promette container entro Natale, poi casette e ricostruzioni. Poca parola si sta ripetendo la soppopera di Berlusconi, anche sulle spalle dei poveri Crissi che sanno. A questo punto termino qui perché se no mi continuo a incavolare, io più leggo le notizie più mi arrabbio. Ti passo la palla, saluto il tuo ospite, che non dico il nome, dopo lo farei tu, e saluto Ugo Lombardi della redazione di Bari. Ciao Ugo, un buonasera a tutti quanti e buon proseguimento con la trasmissione. Ok, partiamo. Carissimi amici di Don Quixote e Mulini Avento, stasera abbiamo un ospite a me molto caro, un carissimo amico da tanti anni, Pino De Marc, filosofo, sociologo, poeta, più che se ne ha più ne metta, cioè in definitiva un uomo di cultura. Ed è molto importante questa definizione perché la cultura sta scemando, si sta perdendo lungo la strada. stasera ci intratterrà su un argomento forse molto inatteso, ma credo sia molto importante, parleremo della comunità romani, cioè dei rom e dei sinti che vivono nel nostro territorio e che sono esattamente italiani come noi. A te, Pino, per un'introduzione all'argomento. Guarda, pronto, sono Pino De Marc, mi presento, sono un professore in pensione ma non a riposo. Intendo dire che, essendo in pensione come anche tu, Alfredo, posso in qualche modo essere un ricercatore liberato, quindi dedico una parte della mia vita alla conoscenza, quindi continuo a sviluppare, ad aprirmi alla conoscenza, anche perché le ultime scoperte della neuroscienza hanno dimostrato che l'idea che le cellule della terza està vadano scomparendo, insomma è stata messa fortemente in discussione perché la neurogenesi, la nascita di nuovi neuroni si può avere fino a cent'anni, insomma. L'importante è praticare conoscenza, praticare e continuare ad esplorare, no? Esatto, esatto. Su questo il cervello ci permette di esplorare, di aumentare le nostre conoscenze, no? Possiamo dire, caro Pino, avendo la stessa età, siamo ancora due ragazzi e questo è il corretto. Certo, nel senso che poi quello che accade in persone che si aprono, che vivono esplorando, io ho il senso del tempo che scorre, non è che sono un Peter Pan, no? So, naturalmente ho consapevolezza del tempo, ma anche consapevolezza della possibilità di rinnovamento del tempo, non c'è un tempo dove non ci si possa rinnovare, insomma, e quindi anche, e quando spesso c'è una forma di angismo, che è una forma di pregiudizio nei confronti delle persone anziane, che si pensa che le persone anziane siano destinate alla decadenza cerebrale, no? Sì c'è decadenza cerebrale, ma questa la troviamo anche in età molto più giovani, no? Quindi diciamo che bisogna rompere i pregiudizi, no? Quindi sì, sì, certo il tempo scorre, ma noi abbiamo la possibilità di generare nuovi neuroni, nuove sinapsi, nuove relazioni, ogni volta che noi facciamo delle scoperte, diciamo, rigeneriamo il nostro sistema nervoso complessivo. Ma adesso sembra, Pino, che addirittura ci sia rovesciato l'indirizzo della nostra vita, si nasce vecchi e poi un po' alla volta si ringiovanisce, sembra quasi che sia così. No, no, certo, questa storia di nascere vecchi, perché è vero che si nasce vecchi, cioè si nasce in un tempo che naturalmente si nasce nel tempo storico con tutti i pregiudizi di quel tempo storico, poi nel corso del tempo uno si rigenera, si libera di questo passato, non lo abbandona, lo riattraversa e attraverso questo riattraversamento si può emergere un nuovo presente, no? Certo, certo. Volevo, su questo tuo argomento, volevo interpellare Ugo, perché è del settore. Sì, con attenzione saluto nuovamente il professor Di Mack. Sì, il tessuto neurologico rimane comunque un tessuto nobile. Una volta, come lei diceva, c'erano dei tessuti che andavano preservati, per i quali si pensava che non ci fosse la possibilità di riproduzione, come lei giustamente affermava, quello nervoso. In realtà le cere nervose sono celloni in grado di riprodursi, non solo, ma quando parliamo di vecchiaia, penso che si debba pensare non solo ad un processo di recadimento, perché magari il fisico e tutto quanto il resto invecchia, ma è anche vero che c'è un certo rilassamento, forse non solo c'è una difficoltà isolativa della parte cerebrale, ma c'è un certo rilassamento perché l'età adulta, diciamo, quasi tutti pensano che si debba un po' rallentare. Se il cervello continua a funzionare, come lei prima affermava, probabilmente rimane più giovane di prima, anzi le sue acquisizioni lo rendono molto più attivo e non è solo l'esperienza che lo rende tale, ma anche la continuatività di aria e cerebrali che magari manco sappiamo dove stanno, come funzionano ancora tutt'oggi. Concordo con quello che dice lei, voglio solo aggiungere una cosa perché è un'esperienza che magari si potrebbe vivere anche ad un'età adulta, cioè quella di imparare a suonare, per esempio per chi non lo sape fare, un apparecchio, insomma, un pianoforte oppure un violino, insomma, e si attivano delle aree del cervello, come per ogni nuova acquisizione che fino ad ora, fino ad allora erano state quindi tenute ferme. E questo non fa altro che confermare è quello che diceva lei, cioè si attivano nuove sinapsi e quindi più circuiti ci sono e più il cervello è in grado di produrre nuove idee, non solo, ma individuare nuovi percorsi. Sì, nuovi percorsi, ci sono 100 miliardi di cellule nervose con altre tanti miliardi di sinapsi, insomma. Bene, Pino, però torniamo... Quindi si fa fatto questa premessa, siamo... No, ma molto, molto interessante. Quindi giusto per combattere... No, 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 è stato un angismo, questo angismo che è uno dei pregiudizi sulla... si chiama angismo come pregiudizio nei confronti degli anziani, no? Esatto, esatto. Quindi... Parliamo invece di questi romani... Allora, quest'anno, no, io a Bologna ho costruito, proprio per prepararmi, diciamo, a questa terza età, diciamo, di scoperta, con un gruppo di amici abbiamo costruito una piccola libera università, si chiama Libera Comune Università della Bolognina, l'università, e questa è, diciamo, funziona come un'università popolare, ma con delle caratteristiche nuove, mentre le vecchie università popolari che ci sono, no, presenti in tutto il territorio, si muovono ancora sul terreno dell'alfabetizzazione e noi riteniamo che l'alfabetizzazione sia avvenuta piuttosto... E cosa farne di questo alfabeto? Cosa farne di questi saperi? Cosa farne di queste conoscenze? Quindi abbiamo pensato di individuare ogni anno un percorso di ricerca, l'anno scorso abbiamo lavorato sul tema dei generi e dei transgeneri, no, come cambiano i generi e quali sono, no, e poi invece quest'anno del maschile plurale, del femminile plurale, dei transgender, quest'anno invece ho scelto il tema delle genti, delle genti, e tra il tema delle genti ho pensato di dedicarlo a questa minoranza romanì, è una minoranza italiana, è una minoranza europea, è una minoranza culturale molto importante, no? Perché per citare in qualche modo chi appartiene a questa minoranza? Charlie Chaplin è uno di questa minoranza romanì, sua madre era una gipsy inglese e suo padre era un ebreo, per dire che le minoranze proprio fino all'ottocento, gli ebrei e i nomadi, gli zingari oppure i rom o i gipsi, in qualche modo vivevano condizioni di marginalità e in questa marginalità si generavano, proprio in questa periferia nascevano in qualche modo dei geni come c'è di Chaplin, ce ne sono molti altri, però nessuno mai parla di Chaplin, parlano sempre di quella minoranza di miserabili prodotti da questo sistema, i quali mettono in atto delle pratiche di sopravvivenza, ma non lo fanno solo loro, lo fanno in tutte le comunità, sotto proletario, i ladri non sono in qualche modo proprio di una comunità, i ladri attraversano in qualche modo tutte le strutture sociali, tutte le minoranze, li trovi tra gli sloveni, i tedeschi, i francesi, gli italiani, però se ruba un Roma, sono in Roma a rubare, se ruba un Veneto, è un Veneto a rubare, quindi c'è questo pregiudizio di fondo che va rotto e questo pregiudizio nasce dal fatto che molte delle, diciamo che c'è una, proprio lo denunciava una intellettuale Roma, diceva guardate che tutto nasce anche dal fatto che quando, nelle favole dei bambini, cioè quando, alla sera prima di addormentarsi, le mamme dicono ai bambini, dormi altrimenti viene l'izingari a portarti via, ti faccio portare via dagli zingari, è chiaro che naturalmente nell'immaginario è rimasta questa idea, capito, ti faccio portare via, cioè diventano una specie di fantasmi, no? Dei fantasmi che si introducono proprio nella psiche, nell'inconscio collettivo, no? Esatto. Qui va rotto il pregiudizio, no? Cioè quindi non è che adesso dobbiamo presentare romanticamente i Rom e i Sinti, no i Rom e i Sinti sono in qualche modo, hanno le stesse contraddizioni che abbiamo noi, sono attraversati dalle stesse contraddizioni, puoi trovare l'Orfei, i Togni e puoi trovare naturalmente lo sbandato Rom, diciamo, della loro comunità, no? Non so come dire, cioè non c'è, Orfei è una famiglia gitana, è una famiglia Sinti italiana, quindi insomma è molto importante rompere questa specie di pregiudizio, no? Cioè non presenta, o lì si presenta romanticamente, cioè in modo particolare come fossero Zingara, dammi la mano, dammi la mano Zingara, capito? Lui si presenta miticamente, o sono dei miti o sono dei miti alla rovescia, no? Loro sono degli esseri, è una comunità come tutte le altre, no? Non c'è, non è una comunità diversa delle altre, lì ci sono i buoni e i cattivi, lì ci sono i beni del bene e del male, insomma non c'è, però noi che ci viviamo dentro, insomma, che abbiamo avuto modo di rompere questo poi, ho cercato di attraversare questo confine e di andare a scoprire cosa c'era lì e abbiamo scoperto delle cose che, in qualche modo, quello che accade lì accade anche lì qua. Però, professore, se mi consente, Alfredo, sì? Certo, certo. Certo. Forse la differenza è anche nell'acquisizione del concetto di rubare. Certo. È un'acquisizione del concetto di un'equa distribuzione che forse è stata assunta in maniera diversa da queste popolazioni di cui parliamo. Per loro rubare significa sopravvivere, quindi non è un punto. Sì, certo, certo, ma per esempio loro non è che abbiano, cioè non è che ritengono giusto rubare, intendiamoci, che non c'è questa idea, no, c'è l'idea della sopravvivenza, cioè puoi avere la stessa giustificazione che diamo noi a una persona che ruba, no, cioè che è uno stato di necessità. Ecco, viene motivato come stato di necessità, non è una cosa diversa dalla nostra, no? Quindi, dalla nostra intendendo nostra, noi gaggi, no? Perché i rom e noi siamo i gaggi, no? I gagè, no? Quelli che non sono rom, no? Ma anche loro ritengono che non sia giusto rubare, eh? Non è che, cioè lo ritengono solo come stato di necessità, non come stato, diciamo, di normalità, ecco, intendiamoci, no? Però l'ipotesi che un gagè diventi rom, in questo caso la sua cultura e i suoi diritti vengono, in questo caso, meno? In che senso? Non si assuma, voglio dire, l'acquisizione del non rubare come ritenuto non reato, perché magari è una necessità, un bisogno per una più giusta distribuzione. Ed è un concetto che è stato assimilato e quindi è crescente all'interno di una mente di un rom. Ma il gagè, no. Ma se il gagè diventa rom, può fare questo discorso? Ma sì, cioè, diciamo che... Questo è tutto lì. Diciamo che non è che ci sia una, diciamo, diciamo che perfino la magistratura, no? Cioè, assolve una persona che ruba in stato di necessità, no? Cioè, perfino le leggi, no? Diciamo, la massima espressione della giustizia o la magistratura può, può, diciamo, dare delle attenuanti a chi ruba in uno stato di necessità. Quindi non è neanche escluso, anche nella nostra, diciamo, costituzione della giustizia. Abbiamo, in qualche modo, diciamo, la giustizia non è che si esprima dicendo allora se rubi una gallina vai in galera, cioè fai questo. No, c'è sempre... La legge va sempre applicata, no? E nel momento dell'applicazione c'è un momento di interpretazione, no? Va valutato, diciamo, la condizione, no? Su cui uno che commenta il reato, no? Questo è evidente, no? Però generalmente se noi vediamo all'interno, per esempio, loro, per esempio, adesso vi racconto soltanto un fatto, un giorno arriva una ragazza a scuola, racconta che a Bologna sua mamma si è svegliata nella notte e c'era qualcuno in casa, lei si è svegliata, ha acceso la luce e questa persona è saltata dal balcone rompendosi una gamba. Ecco, diciamo che lì siamo in presenza, diciamo, di persone che non hanno l'intenzione di fare violenza, anzi fanno violenza a se stessi, uno cade dal balcone per sottrarsi o una possibile di entrare in contatto con una persona che potrebbe arrecargli della violenza, no? Quindi se è un po', si potrebbe dire un po' come la differenza tra i gatti e i tigri, no? C'è un gatto, quando, a questi miei studenti vedete, i gatti quando la finestra è aperta entrano e rubano la bistecca o quello che c'è se ne vanno, no? Una tigre invece è ben diversa, no? Una tigre potremmo dire a chi commette, quelli che entrano in casa, picchiano gli anziani come è successo, lì siamo a dei fenomeni che sono di criminalità, no? Insomma, anche per dire, proprio per valutare questa estrema condizione di necessità, no? Ci sono anche etiche diverse, no? Ma anche all'interno dello stesso gruppo, intanto Rom non so se si nasce o si diventa, ma anche all'interno dello stesso gruppo dei Rom non tutti fanno e si comportano alla stessa maniera. Sì, no, certo, certo, no, ma all'interno della, io adesso ne parlavo così, no? All'interno della comunità, guarda, la struttura sociale dei Rom non è diversa, è una struttura di classe, tu hai i circensi, i quali circensi sono degli imprenditori, i quali molto spesso utilizzano anche i loro parenti o i loro appartenenti alla famiglia come lavoratori, dipendenti anche a volte sfruttandoli, no? Poi ci sono i giostrai che è una classe più, che quelli che sono, quelli che noi, quelli che portano la festa nei paesi, no? Quando arrivavano le giostre, arrivava il circo, arrivava la festa, la festa è arrivata, no? E poi, diciamo giù, c'è in qualche modo un 20% così di popolazione che non ha né arte, né parte, né mestiere e quindi sopravvive, come potrebbero essere quelli che non hanno né arte, né parte, tra quelli che è geno, no? Esatto, esatto. E quindi come rapporto di vicinato? Allora, quello che è successo è che la nostra università popolare è divisa in quattro dipartimento, il dipartimento è la terra, il fuoco, l'aria e l'acqua. Abbiamo scelto questa quadripartizione per dare un po' il rilievo che noi siamo ecologisti e che riteniamo che il rapporto con la natura sia molto importante, no? Oltre che con la società. E abbiamo la sede proprio alla zona ortiva, all'interno degli orti, che è il numero via Erbosa 17 a Bologna e il campo Sinti è in via Erbosa 15, quindi noi siamo proprio confinanti, abbiamo sempre avuto buoni rapporti tra la zona ortiva, cioè gli orti del comune e il campo Sinti, no? Tra l'altro questi Sinti sono stati, sono lì da 20 anni, sono stati messi in modo, sono lì in modo, diciamo, erano in via provvisoria, poi sono 25 anni che stanno in uno stato provvisorio, ed è la famiglia Bellinati, no? Sono quella famiglia di cui hanno avuto due vittime della Uno Bianca, no? Circa negli anni Ottanta, la Uno Bianca quando seminava il terrore in Emilia Romagna, erano entrati in un campo rom, dicolo, nella zona di Viagobetti e hanno sparato, no? Contro le tende, no? Contro questo campo, no? Uccidendo due persone, no? Poi questi, di fronte a questo terrore della Uno Bianca, sono scappati a Modena e il sindaco di allora di Bologna, che mi pare fossi in beni, li ha chiamati e gli ha dato quello spazio, no? Cioè gli ha donato quello spazio in via provvisoria in attesa di darle un'area diversa, no? Quindi noi, io ho deciso, allora che cosa è successo? Che durante la campagna elettorale Salvini è venuto a Bologna e la prima cosa che ha fatto, lui e la sua candidata che è la Borgonzoni, hanno subito attivato un programma nei loro confronti, sono arrivati lì e hanno proprio in modo, cioè indicandoli come fossero i nemici pubblici, i nemici della società, no? Con il loro sempre modo, no? Di individuare nei margini, no? C'è la guerra tra poveri, no? Cioè loro vivono della guerra tra poveri Cristi e poveri diavi, avevano cominciato con i meridionali, poi con gli albenesi, i rumeni, insomma loro attivano continuamente delle guerre tra poveri, ma non fanno la guerra alla povertà, non fanno la guerra alla miseria, non fanno la guerra diciamo all'ignoranza, perché quella è la guerra che bisogna condurre, no? Non è la guerra contro i miserabili, no? Quindi questa è un po' la differenza e quindi io di fronte a questa guerra ho cercato come Università Popolare di aprire un dialogo, ho attraversato questa siepe di confine e ho cercato all'interno del campo un interlocutore e ho trovato come interlocutore Thomas che è un pastore evangelico, Sinti che abita lì dentro e noi due insieme abbiamo costruito questa prima contrada solidale a Rom Sinti a Bologna, estendendolo un po' tutta la città, no? E poi sono, diciamo, da questa relazione che è nata, stiamo facendo anche delle trasmissioni a Radio Città del Capo parlando di questo e per di più quest'anno ho attivato un corso di formazione, un corso di formazione per gli insegnanti della scuola primaria e secondaria e tutta le persone della scuola con l'MCE, il Movimento di Cooperazione Educativa e con il CESP, il Centro Studi. E da quest'anno avremo un corso di formazione sulla cultura romani, cioè di far capire che questa cultura romani ha influenzato tutto l'immaginario occidentale, no? Perché tutta la storia delle arti e dello spettacolo, no? Il circo e tutte le narrazioni, pensate alla Carme di Bizè, no? La Carme è chi era se non una zingara, no? Pensate a Vittor Hugo, no? Il gobo di Notre Dame, no? Eh, è vero. Se ce n'è una quantità infinita, vi posso citare all'infinito, no? Come la cultura romani ha influenzato la cultura occidentale, no? Dalle arti e circense allo spettacolo alle arti. Adesso è anche il teatro stesso, no? Adesso attualmente tutta questa attività è stata completamente sunta dalla televisione, no? La televisione ha in qualche modo sottratto tutta questa, anche questa loro professione, no? Quindi molto spesso le persone passano davanti alle giostre, ormai indifferenti alle giostre o indifferenti alla… perché c'è sempre da qualche altra parte qualcuno che organizza lo spettacolo nelle discoteche, no? Assumendo molto di quelle attività, no? Un attimo, Pino. Rosario? Bene, dimmi tutto. Dovevo mandare un brano, sono le 22.30. Perfetto, mandiamo un brano e poi dopo riprendiamo la trasmissione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. You, inhuman monster You, inhuman monster Keep people hanging, keep them on the line For days, you stack them up As though you're stacking up pancakes But don't you know, sir, if I just want to know my fate Look into my eyes and tell me to my face You, inhuman monster You, inhuman monster You said you were a one shot deal And in time, my bastard ribcage just might heal But you know, you can't play games with people's hearts But you go down You fall down like a house of cards I'm calling you You, inhuman monster You, inhuman monster Oh, 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 inhuman monster Okay, carissimi amici Qua, come sempre, è la seconda parte della nostra trasmissione del martedì sera Don Quixote e Molina Venti Stasera molto interessante Abbiamo come ospite il professor Pino De Marc, uomo di cultura, che ci sta parlando con molta passione, noi con molta passione lo seguiamo, della cultura romani, dei sinti e dei rapporti che abbiamo noi all'interno della nostra società italiana. Ecco, dimmi Pino. No, no, pensavo avessi finito, scusa. No, no, allora ritorniamo a parlare della cultura, mi hai detto che hai una poesia scritta da… Sì, infatti volevo fare un attimo di alfabetizzazione perché diciamo Roma e sinti, appartengono tutti alla cultura romani, cioè sono arrivati dall'India nel 1200, poi in Italia sono arrivati nel 1400, la prima comunità si è stabilita lì vicino a Bologna a 100, intorno al 1400, no? E tra l'altro venivano chiamati con diversi nomi, egiziani, anche bohemian, perché venivano chiamati bohemian? Venivano chiamati perché avevano un salvacondotto di un re Carlo di Bohemia, il quale gli aveva dato un salvacondotto per viaggiare in Europa. Loro spesso viaggiavano in Europa per andare verso Roma, che era per loro la capitale spirituale del mondo romanino, loro sono cristiani, cattolici, quindi si muovevano verso Roma perché sono i punti di attrazione, la Mecca, Gerusalemme e Roma, quindi Roma era una forte spunto di… e la parola per dire bohemian si indicava a tutte queste persone che erano stravaganti, no? Quindi erano artisti, musicisti, violinisti, ballerini, circensi, no? Perché hanno fatto molto spesso queste… la loro attività prevalente erano quelle, oltre a fare i calderari, oltre a fare i… giustare le caldari, le pentole, no? Di rame. Sì, sì. Quindi i cesti, insomma, i mestoli, no? Quindi i commercianti di cavalli, no? Cavalli che scambiavano con le popolazioni sedentarie, no? Per dire qui, per esempio qui in un paesetto vicino dove sono nato io a Godega, c'è la più grande fiera del nord-est e qui c'era uno scambio, la prima fiera del nord-est che si fa la prima settimana di marzo, dove veniva questo grande scambio tra popolazioni sedentarie e popolazioni nomadi. Ed è una fiera che da 400 anni adesso, insomma, non ha più questo incontro, ma è più diventata una fiera della motorizzazione che dei cavalli, no? E allora venivano… si vengono chiamati Rom quelli del sud Italia, gli abruzzesi, sono Rom, mentre quelli del nord Italia tedeschi sono Romani, come quelli francesi, gli inglesi sono Gipsi, i calecchi sono quelli francesi, i malufuschi quelli francesi, eccetera, eccetera. Quindi, indipendentemente dai luoghi, ma sono tutti Romani. Quando si incontrano, parlano questa lingua Romani che viene trasmessa, che è una lingua che è molto simile a qualcosa tra una lingua indopachistana, ecco, perché vengono da lì. Infatti, il primo studioso di questa lingua scoprì, attraverso un collega che parlava indiano, che questa lingua gli assomigliava, no? Adesso vi voglio parlare di questa parabola, di questa paputta. questa paputta è una poeta, è una poeta polacca. Se mi consente, volevo farvi una domanda, perché, insomma, lei è stata così brava, ci ha spiegato, diciamo, questi, no, ma lì questi, se la definizione può anche essere giusta, si spostano un po' da una parte e dall'altra, ma quando e perché diventano stranziani? Cioè, perché una comunità Rom stabilisce di andare in un posto, magari di rimanerci, oppure di spostarsi, oppure di non spostarsi? Guarda, da loro... Quali sono? Ecco. Loro, diciamo che la... Diciamo, non è che i Rom sono per sua natura nomadi, eh? Lo diventano, no? Perché vengono, diciamo, cacciati, no? Dai luoghi, perché come tutte le minoranze, abbiamo visto quella minoranza ebraica, tutte le minoranze sono in qualche modo soggette a delle vere e proprie pregiudizi, ma anche sulle minoranze si scatenano poi tutte le colpe, no? Diciamo, quando, facciamo un esempio, siccome loro si muovevano, si spostavano, normalmente, quando in un luogo scopreva la peste, chi accusavano? Accusavano i zingari, no? Di essere portatori della peste, no? Quindi... Ma loro sono la minoranza, la devo interrompere, perché credo che anche gli scontatori qualcuno si ponga questa domanda, ma perché non si integrano? No, non è che non si integrano, cioè, diciamo che piuttosto c'è un tentativo da parte soprattutto nell'epoca, diciamo, della nascita degli stati nazioni, no? C'è un tentativo di assimilazione, no? Cioè, li vogliono assimilare, no? Beh, è accaduta, per esempio, c'è un racconto che avevo portato su al feste della poesia di Goethe che parla di questa Hermann, il quale in qualche modo dopo la rivoluzione francese dei tedeschi che stavano sul lato occidentale del Reno, i francesi li volevano assimilare, no? Cioè, c'è sempre il tentativo da parte della maggioranza di assimilare le minoranze, no? Cioè, quindi c'è la tendenza, è un po' la difficoltà di accettare la pluralità, no? C'è sempre l'idea dell'essere, della condivisione, no? Non è anche il contrario? Eh? Non è anche vero il contrario che a volte le minoranze chiedono di essere integrate all'intorno delle maggioranze e questo non avviene? Sì, no, cioè non è che l'integrazione non significa assimilazione, né apartheid. Cioè, facciamo un esempio, i Rom e Sinti in Italia come le comunità ebraiche sono comunità non territoriali, perché non territoriali? Perché sono presenti in tutto il territorio, no? C'è in modo, come dire, disperso nel territorio. Mentre la comunità slovena che vive nella provincia di Trieste, Gorizia e Udine, quella è l'istanziale, la comunità, la minoranza tedesca in Alto Adile è l'istanziale, da molto da più di 200 anni, quella francese della Val d'Aosta, mentre loro sono più nomadi e quindi tendono a essere, cioè a non riconoscere, cioè diciamo che lo Stato italiano non riconosce queste comunità, cioè non riconosce, non gli dà un'identità, cioè non viene riconosciuto l'identità e la cultura romani come parte della cultura italiana e parte della cultura europea, è quello che stiamo facendo noi, cioè la mia operazione, diciamo attraverso questo corso è quello di dare valore alla cultura romani, perché è una delle culture assieme a quella ebraica, assieme a quella sovena, assieme a quelle italiane e tante altre, sono culture che appartengono a questo paese, come quella sarda, friulana, no? Certo. E quindi non devono essere assimilate, devono essere, perché l'integrazione vuol dire che tutti devono parlare italiano, loro parlano perfettamente italiano, i rom italiani come i sinti italiani, i tedeschi parlano perfettamente tedesco perché frequentano le scuole primarie, ma loro vorrebbero che questa cultura fosse riconosciuta, cioè che in qualche modo quando uno dice sono un rom, la prima cosa che dice, allora pensa subito che è uno zingaro, cioè pensa subito che è uno priva di forme di vita, che non ha cultura, capisce? Perché quando uno dice zingaro, è quello che vogliamo fare noi, è mettere a queste persone di essere dei zingari per diventare dei rom, far diventare gli zingari dei rom, cioè che possono in qualche modo rivendicare la loro identità, no? E la loro cultura, e che questa cultura deve essere rispettata, no? Perché è una cultura antica, no? Ma questo gruppo di rom, professore, secondo lei è in fase di, parlo dal punto di vista numerico, è in fase di crescita o di decrescita? No, no, in fase di più o meno mantiene, sono circa 800 mila in Italia, gli italiani rom e sinti, sono 800 mila, attualmente per esempio come dicevo nel centro Italia, da parte dell'amministrazione del centro Italia c'è una maggiore attenzione negli euroconforti, lo stesso ha fatto anche il comune di Venezia, soprattutto Cacciari quando ha creato quel villaggio ai margini lì di Mestre, no? In cui cercando di dare loro una casa, no? E quindi loro non è che rifiutano la casa, perché chi è che rifiuterebbe la casa, no? Cioè non rifiutano la casa, anzi Cacciari aveva fatto questo villaggio nei pressi di Mestre e ha chiesto alle famiglie finte lì una cosa importante, noi vi diamo una casa popolare, sono delle case, credo che siano case di Pietro, no? Questo villaggio, però in cambio voi promettete di mandare i figli a scuola, no? E i figli vanno a scuola, no? Lì nella provincia di Venezia, che conosco degli insegnanti che seguono questa esperienza, no? Quindi… Nivelivamente è un fenomeno che insomma la natura ci insegna, la transumanza e quindi… Sì, la transumanza, sì. È uno spostamento, diciamo, utile finché esistono le condizioni perché questo possa verificarsi e poi un ritorno al posto di provenienza, soltanto che loro non hanno un proprio territorio, loro sono un gruppo di persone che si spostano, ma non hanno un territorio loro. Certo, non hanno un territorio loro, ecco, questo è il problema. Questo è il territorio, insomma, quello storico, quello lontano nel tempo e quindi è una ricerca di un territorio, oltre che di cultura. Beh sì, certo, per esempio le attività che facevano sono attività circense e di giostrai e quindi, o di cavalli, non potevano essere fermi, no? Dovano spostarsi continuamente di paese in paese, no? A tal punto che… Io, diciamo, in questa chiedo, sto, diciamo, prendendo un po' forse vivace, le chiedo scusa se la interrompo, perché i dubbi che mi vengono, noi qui abbiamo un campo rom, è stato… si vede un campo rom con alcune cose essenziali, l'acqua, eccetera, la luce, ma credo che non sia nemmeno dignitoso, non solo per chi riceve questo aiuto, ma soprattutto per chi lo dà fornirlo in questi termini. Certo, ma in qualche modo l'Europa ha fatto una critica all'italiano che questi processi di segregazione, perché questi campi rom che vengono costruiti, vengono costruiti perché c'è un forte pregiudizio da parte anche degli stessi italiani. Gli italiani non accettano che questi abitano delle case popolari, no? Ha capito? C'è anche, se tu dici, do le case, non so, in Roma, popolari, è come ne dessi a uno straniero, ma in realtà loro sono italiani, no? Capisce come dire? Sono gli stessi italiani che non accettano che questi si integrino, che non accettano che questi possono vivere accanto a te, no? Perché ne temi questo pregiudizio che ti invade, no? Ma in Germania, per esempio, non vivono nei campi, per esempio. E si sa benissimo che attorno ai campi, come abbiamo visto a Roma, attorno ai campi si creano delle vere e proprie mafie, no? Ma ci sono non dei buoni samaritani, ma dei samaritani criminali, cioè sono persone che svolgono l'attività samaritana, ma nel senso rovesciato, no? Alimentando speculazioni sulla vita di queste persone, no? Al posto di… Insomma, pensate che sono stati destinati dalla comunità europea un miliardo di Euro per i campi in Italia. Di questi un miliardo di Euro questi poveri Rom non ne hanno visto una lira, sono finite tutte in questo mondo diciamo sommerso del, tra virgolette, dei samaritani mafiosi, ecco, perché poi non c'è nulla da dire, no? Quindi se questi miliardi li avessero destinati a creare delle case, dei villaggi, le cose sarebbero diverse, no? Avremmo… In Germania non abitano, abitano i villaggi, no? Le case popolari vengono fatte delle case per loro, no? Anche a Faenza, per esempio, a Faenza recentemente si è cominciato a inserire queste persone da un campo all'interno diciamo del territorio, no? Accompagnandoli all'inizio, li si dà la casa, li si aiuta e poi li si accompagna verso l'autonomia, no? Cioè perché l'unica fonte dell'autonomia è la scolarizzazione e il lavoro, questo lo sanno benissimo anche loro, no? Non l'assistenza, cioè coloro che fanno assistenza vogliono tenere queste persone in uno stato di, diciamo, di sudditanza e in qualche modo li servono soltanto come pacchetti elettorali per le elezioni, no? L'assistenzialismo è in qualche modo il peggior nemico dell'integrazione, no? Anzi è la disintegrazione, capito? Ma questo modo di comportarsi si può anche visualizzare all'interno dell'immigrazione? Certo, certo. Sì perché bisogna rompere questa forma di pietismo, non bisogna avere pietà nei confronti di nessuno, non bisogna avere pietà, cioè se una persona, diciamo io vedo qualcuno nella miseria, non ho pietà di lui e gli do l'elemosina, capito? Oppure, come diceva una volta alla Barca Franzoni, la Chiesa si è sempre occupata dei poveri, ma li ha sempre lasciati poveri, perché la povertà è una fonte di sopravvivenza della stessa, diciamo, religione sbagliata, capito? Del potere, in linea generale. Del potere, no? Avere un potere su di loro, cioè quindi non bisogna dare assistenza, ma bisogna creare le condizioni dell'autonomia. Quando dicevo che noi siamo molto contenti che nella provincia di Bologna, sempre più persone dei campi riescono a frequentare la scuola primaria, la scuola media e la scuola superiore, abbiamo sempre più gente dei campi Sinti e Roma a scuola, noi siamo molto contenti perché questi poi, attraverso questa scolarizzazione, possono anche cominciare ad avere una propria autonomia, vanno accompagnati verso l'autonomia, non verso l'assistenza, perché l'assistenza serve soltanto ai samaritani mafiosi, non ai buoni samaritani. I buoni samaritani aiutano le persone a portare, diciamo, verso l'autonomia, no? Un vero, se vuoi far bene a qualcuno, devi farlo diventare autonomo, no? Aiutare che diventino autonomi, non sudditi, no? Ebbene, questo è un modo di operare un po' del mondiale, parliamo dell'Africa, parliamo di tante situazioni. Certo, certo, lo trovi dappertutto. Cambia. Questo pietismo lo trovi dappertutto, anzi qualcuno, ma credo che sia anche adesso il Francesco che ha detto qualcosa. Cioè, diciamo che sono stufi anche la carica. Dice, noi possiamo dare un aiuto momentaneo, ma dopodiché si deve attivare le istituzioni, no? Esatto. Capito? È chiaro che se io vedo qualcuno per la strada che mi tende la mano, gli do anche una monettina, no? Perché cambi oggi, ma vorrei che domani questa persona venisse accompagnata. Facciamo solo un esempio per quanto riguarda i migranti, no? Per esempio, per ogni migrante in Italia si spende 35 Euro, in Germania se ne spendono 16. Capito? 16 Euro. Ma questa cosa è organizzata attraverso il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Industria. Sono loro, cioè è lo Stato stesso che accompagna questo. Alla mattina questi vanno a scuola, questi migranti che vengono accolti, il pomeriggio fanno attività, non in giro, capito? Questi qui prendono i soldi per istruire, per alfabetizzare la mattina e per istruire il pomeriggio, ma poi non fanno tutto questo, li abbandonano a se stessi, no? E vengono a mendicare, no? Capito? Eh, questo è un po', c'è tutto questo mondo sommerso, bisogna, bisogna in qualche modo, diciamo, fare una vera e propria guerra a queste forme di assistenzialismo. A proposito di assistenzialismo, no? Che non è assistere, perché è meglio che oggi con un miliardo fai case e quelle case rimangono, no? Giusto? Sì. Quindi se facciamo strutture, non questi campi, diciamo, fantasmi che si costruiscono all'interno della città, che si spendono un sacco di soldi senza avere nessun risultato, anzi, più cosa fanno? Fanno queste micro aree, sempre più lontano dalla città, e poi diventa difficile per gli stessi ragazzi andare a scuola, loro si lamentano, no? Perché li buttano sempre più lontani e loro non riescono a raggiungere a volte la scuola, no? Beh, allora a quel punto è chiaro che lì si attivano anche dei mini bus per portare la scuola a Bologna, no? Questo è evidente. È stato molto, molto chiaro. Quello che bisogna fare, bisogna favorire la scolarizzazione e non avere pietà, perché la pietà è in qualche modo, chi ha pietà non ha amore, ecco, chi ha pietà non ha amore per questa, per queste genti, no? Cioè, è soltanto… È verissimo, è verissimo. È una grande strumentalizzazione che viene fatta, no? Oppure adesso, per esempio, a proposito, perché prima abbiamo iniziato parlando del fatto che spesso, quando fanno delle perquisizioni nei campi, trovano una quantità di dinero presso una persona, no? Ok? Allora, dobbiamo sapere che lì adesso negli Stati Uniti era in corso un processo ed è stato vinto da loro per quale ragione? Perché loro i soldi, questi qua, non li mettono in banca, ma li affidano il loro capo, che sarebbe come il loro sindaco, no? Il loro banchiere, no? È in qualche modo la persona più saggia della comunità che tiene questo denaro e lo amministra per tutti, quindi, diciamo, adesso si trova qualcuno con un sacco di denaro e dice ecco qua, da dove viene tutto questo denaro? Quel denaro lì è il denaro di quella comunità lì, di quel gruppo. Questo è un punto da chiarire molto bene. È un punto da chiarire perché loro, per esempio, guarda, gli lecco adesso questo pezzo per dirti di questo processo, perché era una riserva, diciamo qui, non mi sembra, eccolo qua, a proposito del mito delle montagne d'oro, si aggancia a me che è uno di questi racconti. Ho visto da poco un documentario su K.Tel, che parlava di un gruppo di Rom che vivevano assimilati alla periferia di una grande città americana, campavano vendendo i piccoli oggetti fatti a mano, la loro attività rendeva bene e nonostante vivessero in case moderne, conducendo una vita simile a quella dei gangi di noi, portavano tutti gli introiti della vendita a casa del loro capo. La famiglia del leader nascondeva in casa il patrimonio accumulato di generazione in generazione, ma quando la polizia l'ha saputo ha fatto incursione nell'abitazione e ha sequestrato tutto. Da lì è iniziato un processo penale a carico di questo uomo, del loro leader. Il documentario di produzione americana mostra come, in quella che vuole essere la più grande democrazia del mondo, in realtà non ci sia libertà. Il processo è durato un decennio a cavallo tra gli anni 80 e 90 e ha fatto molto rumore. Parecchi avvocati hanno partecipato volontariamente per difendere la verità, ovvero che quel patrimonio non apparteneva a quell'uomo che lo custodiva bensì dall'intera comunità e che era frutto dell'accumulo di guadagni onesti di centinaia di uomini e donne sparsi in città che facevano riferimento a lui. I Rom durante il processo hanno dichiarato di non approvare le leggi americane, ma di non volerle neanche contrastare, semplicemente non si fidavano di portare tutta la loro fortuna in una banca o in un'istituzione che non fosse espressione della loro comunità. Alla fine del processo il patrimonio è stato restituito alla comunità e a quel punto sono stati i Rom, a cui la legge aveva dato ragione, a denunciare la polizia per le ingiustizie, le accusi, i maltrattamenti e le umiliazioni subite. Questo secondo processo ancora non ha avuto termine a quello che io ho capito da tutta questa storia e che i grandi sistemi statali alla fine non funzionano, non riescono a rinunciare alla tentazione della prepotenza. Questo è un documentario recentemente americano della Cappatel. Molto interessante. Per dire, no? È un po' come se andassero in banca, ma i soldi non sono della banca. Non sono della banca, capisci? Perché in realtà si affilano, sono proprio grandi famiglie loro, sono tribù, capito? Che si accumula all'interno delle associazioni. Per esempio io e Alfredo avevamo fatto parte dell'associazione. Alla fine i soldi raccolti, chi li tiene? Li tiene sempre un castiera, no? Che è un po' quello dell'associazione, quello di cui ti fidi di più, no? Esatto, esatto, ma è così, le strutture sociali sono così. Ecco, una domanda che volevo farti, perché l'argomento è talmente interessante che sarebbe molto bello poterlo integrare. Esiste una bibliografia su questi argomenti, sui regolamenti, romanisti. Sì, sì, allora c'è per esempio, adesso è uscito un libro recentemente della Confini Diamanti dell'Ombre Corte, che tra l'altro è una piccola casa editrice di Verona, che si chiama, è il viaggio in margine dell'Europa, ospiti dei Rom, e praticamente parla di questi due attori, di questi due attori di teatro, che hanno vissuto praticamente a Sudca, a Sudca vicino, che è un soborgo di Scopie, che è l'unico soborgo nel mondo autogovernato da un sindaco romanese. E questo libro si chiama Confini, è lui che ha vissuto, questi due hanno vissuto per due anni a Scopie, in questo soborgo di Sudca, hanno fidato, dopo due anni hanno fidato il loro figlio a una baglia Rom e in realtà in questa conversazione dice guarda, dicono sempre che i bambini, che rubano i bambini, ma noi abbiamo lasciato il nostro figlio di pochi mesi in mano a questa baglia Rom, si chiama Confini di Diamanti e poi c'è questo Isabel Fonseca, seppellitemi in piedi, e adesso vi leggo questa cosa, questa poesia, vi leggo una poesia di Bronislava Weiss, ma era nota come Papuzza, ovvero Pupetta, il suo nome Zingaro, Popuska fu tra i più grandi cantori e poeti zingari e per un breve periodo anche tra i più ozanati, visse tutta la vita in Polonia, ma quando nel 1987 morì nessuno si ricordava più di lei, come quasi tutti gli zingari polazzi, la famiglia di Papuzza era nomade e faceva parte di una grande compagnia, un gruppo di famiglie che viaggiavano con i cavalli, le caravane, con gli uomini in testa e le donne e i bambini che le seguivano sui casi, le famiglie più ricche possedevano carri dall'intaglio elaborati, ricoperti di tettoie robuste, con finestrelle di vetro, talora a forma di diamante, incastonnate in cornice di legno di pizze, una compagnia comprendeva fino a 20 carri, uomini e donne, bambini, cavalli, carri, cani, fino alla prima metà degli anni 70, scendevano da viglia attraverso le foreste orientali della Volinia, dove migliaia di zingari polacchi si erano ruffugiati durante la guerra, nelle foreste, superando i monti Tatra, a Susa, e questa poesia adesso me la leggo e dice così, Papuska aveva commesso, vabbè, insomma lei è stata accusata dalla sua tribù di aver avuto contatto con i gaggi, insomma con altri poeti, allora dice Papuska, nessuno mi capisce, tranne la foresta e il fiume, ciò di cui parlo si è dissolto e con esso tutto se n'è andato, anche i giovani anni. Per la verità Papuska era stata preintesa e usata da entrambe le parti, diciamo che era stata accusata di mantenere una relazione tra Gaggi e Rom, ma la nostalgia dice lei, la nostalgia del canto zingaro è anche pregna di fatalismo, presto arriverà il giorno del giudizio, lasciatemelo venire, non importa, di un canto zingaro termo, no? E così, insomma, e poi loro sono anche molto religiosi, no? I sinti e i rom, no? Sono molto religiosi, c'è una forte religiosità tra di loro popolare, no? Durante la guerra Papuska perdete oltre 100 parenti, ma non fu nemmeno questa la tragedia che l'avrebbe formata, circa più di 2 milioni di rom sinti sono finiti nei campi di concentramento e poi sono stati, loro lo chiamano il Poramos, che sarebbe l'olocausto degli zingari, il Poramos, il divoramento, no? Essere divorati, no? Pochissimi sopravvissero, sopravvissero solo quelli che scapparono, no? Nelle foreste si nascondevano, oppure adesso ho scelto un altro libro molto interessante che si chiama Io non mi chiamo Miriam, che è la storia di una rom svedese da quale era stata incarcerata in un campo, bambina aveva 4 o 5 anni, assieme ad altri bambini rom e ebrei, capitò che un'amica di questa, io non mi chiamo Miriam, di questa Axel, fu mandata, fu in qualche modo fu mandata alle camere gas e lei da quel momento, questa Roma svedese, ha preso il nome di questa e ha deciso di quando è uscita dal campo di chiamarsi non più Axel, ma di chiamarsi Miriam e all'età di 70 anni, cioè tutta la famiglia ebrea svedese che pensavano che fosse la figlia loro e che fosse quella che a 4 anni era stata rapita, disse io non sono assolutamente Miriam e mi sono travestita da ebrea, uno per ricordarmi, per ricordare questa mia amica piccola che abbiamo vissuto alcuni giorni nel campo, insomma un periodo nel campo insieme, la mamma è molto amica, ho voluto assumere la sua sembianza e in qualche modo diventare come lei, diventare una Miriam che cresce e tutti questi furono, rimangero una storia vera, rimangero sconvolti da questa storia, io non sono rom, non sono ebrea, ma sono rom, comunque è uscito adesso della iperborea questo testo. Caro Pino, siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata, sono le 23.02 ed è stata estremamente interessante. Ah ecco un libro molto interessante, il 12 novembre a Bologna in Vierbosa faremo questo simposio sulla comunità e io con questo pastore evangelico che vive lì accanto, presentiamo questo ultimo libro di Dario Fo che si chiama Rasta di Zingaro, è dell'edizione Chiare Lettere uscita in questi giorni e della storia vera di questo Johann Trollmann che serve un pugile sinti nella Germania nazista, il più bravo di tutti, era uno zingolo, la vita di Johann comincia subito di corsa da quando bambino scopre la box e sale sul ring portando con sé i valori e le tradizioni della sua gente, guadagnando il senso di Zingaro, una più emozionata dell'altra. Ma lo zingolo non è come gli altri tedeschi, come può rappresentare la grande Germania alle Olimpiadi del 1928? Che strade del successo ben presto gli vengono sbarrate, il primo politico peggiora, il nazismo travolge tutto, anche la sua vita e quella della sua famiglia, non importa che Johann sia il più bravo, il titolo di campione dei pesi medio massimi gli verrà negato, nonostante la vittoria sul ring perché uno zingolo, la Germania alle Olimpiadi. Senti Pino, quando tu avrai altre cose da dirci mi raccomando, potremmo anche, pensavo, intervistare questo pastore una sera, se è disponibile, per sentire... Certo, io avrei piacere che il 12 novembre, quando inizierai il corso di formazione sulla cultura romanina per gli insegnanti bolognesi, dell'MCE e del CES, vorrei che tu fossi presente a questo tipo di posto. Io spero di esserci perché... E anche di firmarlo, no? E anche di firmarlo, lì sarò un accordatore di questo simposio, no? Che non è un conflitto. Va bene, caro Pino. Quando torni a Bologna? Io torno a Bologna lunedì, perché sono qui nel Nordeste. Allora quest'altra settimana finalmente ci portiamo a incontrare e organizzare la cosa. Io ti ringrazio, come ringrazio anche il caro Ugo che mi è stato di grande aiuto questa sera. Ricordiamo che Ugo domani pomeriggio alle sei e mezza insieme ad Antonella in Trano verranno spazio aperto. Credo che intervistiate un sindaco. Forse domani facciamo... parliamo di televoti. Ah. E poi? Poi forse anche il sindaco. Vediamo, insomma, abbiamo in forza questa situazione qui. Molto bene, poi invece domani sera alle 22 avranno spazio antimafia, antimafia 2000, che è sempre molto molto interessante. Rosario... Ci sono, eccomi qua. Perfetto, allora chiudiamo... Allora, anche stasera siamo arrivati in Porto ed è stata una serata molto interessante, veramente piena, piena di conoscenze che non abbiamo. Ok, a te l'ultima parola, innanzitutto un grande saluto e un abbraccio a Pino De Marche. Grazie a te, Rosario, ho cercato di appastellare, di portarvi... Ma sei stato, come sempre, perfetto, non preoccuparti, Pino. Grazie a te, Rosario, per la chiusura del programma. Bene, allora ricordando tutti gli amici, come già hai fatto tu, delle trasmissioni di domani, mercoledì 2 novembre, alle 18.30 con spazio aperto e alle ore 22 con l'osservatorio antimafia. Voglio ricordare a tutti gli amici che questa trasmissione verrà replicata sia sulla web radica che sulla web tv del network, ma poi verrà postata già da domani pomeriggio, anzi, da dopo domani pomeriggio, sul nostro canale YouTube. Quindi, insomma, si potrà riascoltare tranquillamente chi se la fosse persa, insomma. Può capitare. Oh no, Alfredo? Certamente, certamente, Carlo. Un caro saluto a Pino De Marche, a Ugo Lombardi, a te Alfredo, a tutti gli amici al condominio di Radio Sayuz. Buonanotte a tutti quanti. Vado con la sigla. Buonanotte, buonanotte. Buonanotte, buonanotte.